Il nuovo comune di Borgo Valbelluna non è più soltanto un'ipotesi sulla carta. Il referendum per la fusione di Tricchiana, Mel e Lentiai ha avuto esito positivo. Nasce quindi il terzo comune più popoloso del bellunese, che conterà 14.000 abitanti. Alle urne non c'è stata la ressa, ma le percentuali vanno lette tenendo conto degli iscritti all'aire. Lentiai ha votato il 30% degli aventi diritto, ma escludendo dal conteggio gli elettori che vivono all'estero, il dato sale al 52%. La stessa percentuale reale per Mel, che altrimenti si fermerebbe al 39,3%. A Tricchiana ha votato il 39,9% degli aventi diritto, ovvero il 47,2% degli elettori residenti in Italia. In quest'ultimo comune i favorevoli alla fusione sono stati il 60%. A Lentiai il sì ha raggiunto il 65% e i più convinti sembrano essere gli abitanti di Mel, il comune più popoloso. Il 76% dei votanti si è espresso a favore della fusione. Una curiosità, le schede riportavano una dicitura errata, localizzando i tre comuni bellunesi in provincia di Vicenza e sono state corrette una ad una con un timbro prima del voto. Ora il risultato del referendum dovrà essere convalidato dalla regione, poi arriverà l'inevitabile commissariamento fino alle elezioni amministrative.